ciao fragoline e ciao fragolini allora nuovo video questa volta ho fatto veramente una pazzia perché volevo provare dato che come sapete la tipologia dei grattivinci non lo sto facendo due volte al mese perché come sapete io metto due video al mese di grattivinci ma non avendo tempo per comprarli e per registrarli perché ovviamente ci vuole anche tanto tanto tempo anche perché ora che li gratti puoi stare attenta di non sbagliare perché se come è capitato a me che non ha registrato e io stavo grattando ho fatto un casino negli altri video precedenti e ciao per cui va diciamo c'è da stare attenti quando si registra questi video questa tipologia di video per cui vi faccio vedere che cosa ho combinato ma credo che l'avete visto nell'anteprima questi sono tutti i grattivinci che ho comprato è la prima volta che spendo così tanto ne valsa la pena non lo so lo vediamo in questo video e ovviamente dato che sono tanti l'ho presa tanto tanti apposta cerco di dividerli per appunto li metto questo video sia su fragolina che nell'altro canale nuovo perché nell'altro canale nuovo visto che molte persone gli è piaciuto il video per cui voglio spezzare fare due video uno questo e uno l'altro per cui se volete vedere gli altri grattivinci sono vincenti vi ricordo di andarmi a seguire cioè di iscrivervi al canale su fragolina real official ve lo lascio qui per cui cosa aspettate andate sull'altro canale e vedete se ho vinto anche lì oppure no ovviamente voi dite ci sono questi sono tanti c'erano quelli per cui ho voluto cambiare posto e c'erano i crucigiolli infatti ne ho presi cinque di crucigiolli e doppia sfida che questo qua quello nuovo per cui vedete due o tre grattivinci che vi gioco adesso e gli altri li vedete nell'altro canale per cui mi raccomando andate anche sull'altro canale per cui iniziamo da questo io avevo io ho deciso di fare il crucigiolli e l'altro che doppia doppia sfida che è nuovo lo metto nell'altro canale per cui facciamo così per cui facciamo tre grattivi vinci in questo video e tre grattivinci nell'altro poi se per caso ne ho di più quasi quasi separo i video e li metto appunto vi faccio vedere comunque niente buona visione ci vediamo dopo allora ho preso questi tre grattivinci che sono tutti i crucigiolli ovviamente ci metto un po perché questo grattivinci ora che cerchi tutte le parole ci vuole un po se per caso sbaglio come l'altra volta scusate ma le lettere sono piccole c'era solo questo grattivinci qua che costava diciamo meno a confronto degli altri allora ho detto proviamo a fare questa pazzia e comprare tutti i grattivinci uguali per cui iniziamo da questo adesso vediamo se devo farlo un po lo zoom iniziamo alle nostre lettere mi metto un po distanti allora prima lettere la v e già troviamo qua ne troviamo un'altra perché poi devo fare anche veloce sono questo video dura troppo per cui per adesso io vedo che ci sono solo due b poi andiamo con la p p p p io qua la p per il momento non la vedo poi appunto andando veloce è difficile che che zecchi tutte le lettere giuste la g io qua neanche la g vedo poi se mai dopo a controllo bene e poi ve lo vi dico zeta 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 non vedo nessuna zeta andiamo di a di a ce ne sono tante questa 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 qui un'altra ok qua me ne perdo sempre una e credo basta perché non ne vedo ok poi poi h h credo che ne ho vista una ma vedi che sbaglio infatti non c'è un h poi j j non penso che c'è perché non vedo neanche non vedo neanche la j allora niente j poi la q q q neanche la q la b c'è qui poi due b qua e basta e basta non ne vedo più poi la e c'è questa qui questa qua ne ho trovata un'altra un'altra qua qua una c c c trovate poi se ce ne sono altre dc per il momento non c'è acqua già vedi la g già qualche lettera poi viene fuori perché facendo veloce n n c'è qua non ho trovato un'altra qui un'altra un'altra qua c'è un'altra qua c'è un'altra spero che si vede ok e basta poi la d d eccola vediamo c'è un'altra qua e poi credo basta la t ho visto con i 1 con un'altra un'altra qua di t ce ne sono tante molte di più t tt tt qua ce ne sono tt tt qua ce ne è una la e non è uscita no e credo basta poi r r r abbiamo questa un'altra qui c c'è un'altra qua c'è un'altra qua ovviamente sono piccole ok poi s s c'è questi due e poi credo basta perché sinceramente non li vedo k k non c'è k la u l'avevo vista qui poi ce n'era un'altra mi sembra qua sopra qua e poi credo basta credo invece la parola jolly allora la t c'è la i non c'è la m non c'è e la o c'è giusto? no la o non c'è perché ho detto la o c'è mamma mia c'è solo la t la o non so perché forse mi sono confusa con la q dovete capire fa troppo caldo e sto andando in tilt specialmente quando sta diventando buio e non vedo niente questi gratti vinci l'ho presi al pomeriggio sono tornata a casa tardi alla sera cioè per cui dovete capire comunque vabbè prima facciamo questi che sennò il video usura troppo e poi vediamo se sono vincenti o no allora iniziamo da questo f iniziamo che abbiamo già qua la f un'altra f ne ho trovato un'altra e credo basta perché tanto poi spuntano dopo e non te ne accorgi la i i questa è una i ma vedi che sbaglio e invece della i gratto la t i i ce ne sono altre teoria no no si c'è questa e credo basta poi k k qua non la vedo s c'è qua forse una no ce ne sono due e basta perché non penso di averle viste altre n n ce ne sta una no due tre no c'è anche qua quattro e non ne vedo più ok ok la g la g non penso che c'è solo quella lì sì però adesso ne vedo solo una poi r r abbiamo questa qua sotto no no r ce ne sono tante no finito almeno io non ne vedo poi z z io non le vedo per adesso poi m m ne ho viste un po' qua uno è qua uno è questo ecco la n ok poi questo e credo basta poi j cioè y perché j mamma mia sto caldo mi sta dando la testa non c'è almeno non la vedo poi vi doppia sinceramente neanche quella la ho ne ho viste un po' che qua tante ne ho viste per cui facciamo così e così poi credo basta perché non le vedo c'è questa e credo basta poi altre mamma mia queste lettere non ci sono proprio perché ho già visto che almeno io non le vedo poi l l c'è forse qua una ma no c'è un'altra e poi qua forse una questa è un'altra che non ho trovato un'altra e credo basta la d d d eccola qua una ho trovato un'altra e siamo già due e credo basta quale ho grattato l'embre sì non ci sto più capendo niente perché talmente gratti che appunto sto grattando anche male sta andando via pure le lettere va bene va bene andiamo avanti che stava durando troppo sto video la U complicato la U è qui qui qua sotto qua ne ho trovata un'altra un'altra e basta qua l'avevo già grattata credo basta poi la B dice qua c'è qua sotto un'altra B B B B B B B B non ce n'è più ok e credo l'ultima è la Q io sinceramente la Q non la vedo ah no è qua ho detto che poi si fa fatica a vedere ok invece la parola jolly allora allora la L c'è la B c'è la O c'è mancava solo la O sì in teoria mancava solo la O vabbè andiamo avanti l'ultimo perché questo video sta durando troppo ripeto controllo poi bevene senza registrare perché sennò poi faccio fatica e questi già sono le lettere piccole già non ci capisco più niente allora ne ho trovata una due qui un'altra la O poi te è giallo poi non si capisce niente vabbè la O qua ce n'è una O O vabbè ce ne sono tante qua tante tante ce ne sono credo basta R R R non ho visto una due ah eccolo qua c'è un'altra O che non l'avevo vista R R E non la vedo più no no qua c'è una sotto ok andiamo veloce H H c'è questo e e basta perché almeno io non la vedo poi la V B B ho già trovata una e e basta era una la Q mi sembra che l'avevo vista ma vedi che sbaglio mi confondo con la O infatti non la vedo poi T qua ce ne sono due poi uno è qua e sinceramente credo basta L qui ce ne sono due di L L credo che ah no c'è anche qua ho fuori di controllare veloce veloce solo che allora andiamo avanti perché sta durando troppo P P P P P non la vedo questo l'ho grattata no infatti la P io non la vedo poi J io non la vedo la J spero di non sbagliare ma tanto dovrei controllare allora barro è stato completato la B qua c'è B B B B altre B non le vedo poi ok allora mi sembra che anche questa non l'ho vista per cui non c'è andiamo avanti più veloce la D c'è qua D c'è un'altra qua sotto D D non ne vedo D no sinceramente non le vedo poi F F ok F qua qua c'è uno di F mi sa sì la E ne ho viste un bel po' che sono queste poi dove che era qua c'è un'altra qua un'altra qua c'è un'altra qua c'è un'altra la E e qua infatti non ho viste un bel po' credo basta questo M invece neanche tante qua un'altra M M M un altro e lo dovrei ok credo che l'ho prese tutte Z mi sembra che non c'è e la X allora questo anche questa qua però credo che non vedo niente qua però abbiamo completato perché c'è la E la L e la O per cui jolly qua abbiamo completato perché c'è jolly per cui non vi svelo il il premio prima controllo tutto che le lettere ovviamente l'ho viste tutte e poi vi faccio sapere quanto ovviamente qual è il biglietto vincente e quanto abbiamo vinto allora controllate tutte meno male piano piano perché devo ovviamente vedere ogni singola lettera perché facendo veloce nei video è un po' dura allora la parola jolly è completata vediamo il premio perché questo è vincente per cui abbiamo già due zeri vediamo zoom ok forse un po' troppo vediamo 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 10 euro in più abbiamo trovato altre lettere perché le abbiamo trovate allora bar questa sono già due poi maz tre e poi quattro parole comunque totale di questo biglietto vincente 20 euro per cui sono 20 euro che abbiamo vinto beh è la prima volta ma direi che è buono perché 20 euro non è niente male con tinta perfetto è meglio di così comunque le parole ovviamente sono queste qua che appunto che tipo fritto room bar no room non c'è niente fritto bar l'altra parola quella lì e amor per cui altri 10 euro che sono 4 e in totale sono 20 euro 20 ecco ecco una bella cifra tonda tonda calcolate che in totale di tutti questi grattivinci ho speso 20 euro per cui 20 euro recuperati ma vi spoilerò che nell'altro video che ho messo e che vedete sull'altro canale su fragolina che vi lascio qua nel secondo canale ho vinto anche lì e dato che volevo dividere i video le due vincite per se volete scoprire quanto ho vinto in totale che è una bella cifra non è neanche poca andate sull'altro canale che vedete il video che ho messo dell'altri grattivinci meno mai che qualcosa pensavo almeno 50 euro sinceramente poi ho detto vabbè mi contetto lo stesso ho recuperato i 20 euro e tantomeno non li ho persi ho detto cavolo ventiera c'era solo che il problema è che se c'era un altro grattivinci era meglio perché questo qua è un po' difficile poi non riesco a capire perché quando devo registrare oltre a registrare alla sera tardi specialmente con questo grattivinci già la seconda volta che eh registro questo grattivinci e faccio fatica uno per il caldo e due per vedere i numeri cioè le lettere perché comunque devi stare attenta a vedere che l'hai grattati tutti e per non far durare il video lungo anche se sta durando tanto eh devo sempre spegnere la la registrazione controllare uno a uno con tranquillità e poi ovviamente vedere se se ho vinto oppure no perché appunto sto grattivinci un po' pesante da registrare da montare o tanto o meno perché ci sono tante clip che taglio e è pesante specialmente con sto caldo che non si riesce a grattare comunque niente diciamo che sono soddisfatta meglio di niente detto questo spero che il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo lasciatemi qua un commentino e un like ecco così ne faccio altri tanto ovviamente le vedete l'unica cosa che dato che fa caldo non credo di farne altri in agosto per cui aspetto aspetto e li farò verso settembre che fa meno caldo perché sennò non ce la faccio più e niente per cui comunque continuerò a fare lo stesso questo questa tipologia di video perché mi piace farla poi se le persone non le guardano così tanti amen prima li guardavano tutti questi video invece adesso non so perché se sono in vacanza le persone chi lo sa comunque vabbè noi ci vediamo al prossimo video ciao